Il presidente della regione Alberto Cirio in visita al cantiere della linea all'alta velocità a Chiomonte mentre al di fuori proteste del movimento Notav, fogli di via per alcuni attivisti. Buongiorno, prima edizione del telegiornale del Piemonte. Da poco iniziato a Chiomonte in Valsusa la visita del presidente della regione al cantiere Tav Alberto Cirio. Alberto Cirio che è in diretta proprio in questo momento con il nostro Vanni Caratto. Allora subito la linea a Vanni Caratto per sentire i particolari di questa visita. Sì, buongiorno da Chiomonte. Appena ha finito il sopralluogo al cantiere Tav. Noi abbiamo in diretta il presidente della regione. Allora, nonostante il governo sia caduto, questo cantiere ripartirà e sarà irreversibile il lavoro? Sì, ormai è irreversibile. Noi siamo qua a testimoniare come governo regionale che oggi si cambia pagina, cioè c'è la pagina dell'operatività. Dopo tanti discorsi, forse anche troppi, dopo tanto tempo perso, oggi si riparte a lavorare e la regione sarà in prima fila per affiancare TELT e far sì che quest'opera al più presto possa essere realizzata perché qui passa il futuro del Piemonte e di tutta l'Italia. Ecco, oggi questo sopralluogo con l'assessore Gabusi, con Virano e il direttore generale di TELT. Di che cosa avete parlato nella visita? Abbiamo parlato di tempistica che per noi è fondamentale appunto per recuperare tanto tempo perso ma anche di alcuni aspetti. Il primo è quello della formazione del personale che qua dovrà venire a lavorare. Qui avremo mille persone che potranno essere tanti piemontesi e tanti italiani che trovano occupazione. Queste persone dovranno essere ospitate in alberghi, dovranno pranzare, dovranno cenare. Quindi c'è tutto un sistema economico che si muove già direttamente. E poi abbiamo ragionato da piemontesi per favorire un rapporto tra le imprese del territorio e quest'opera che può dare ricchezza non soltanto quando sarà realizzata ma anche durante la sua realizzazione. In Ottav della Valsusa hanno detto faremo battaglia, questo cantiere non riparte. Noi siamo qua per dire che non dobbiamo avere paura. I momenti della democrazia credo ci siano stati e fin troppo. Tutti hanno detto la loro, abbiamo rispettato la voce e le parole di tutti ma poi bisogna in Italia imparare a smettere di parlare e fare. E qui oggi noi siamo per fare. Ecco, crisi di governo. Oggi la sindaca di Torino a Pendino ha detto con la fine di questo governo siamo preoccupati per i progetti per Torino ma anche per il Piemonte. Lei non pensa che ci possa essere uno stop a questo e ad altri cantieri? Credo proprio di no, anzi in questo governo era la componente grillina che fermava tante opere e tanti progetti quindi se ci sarà un governo nuovo io spero che potrà essere un governo di centrodestra unito come quello che sorregge la maggioranza di governo oggi in Piemonte io credo che avremo solo da guadagnare anche come piemontesi. Quindi si può fare una previsione quando ripartirà dal cantiere qua? Ma qui i lavori ripartono subito già nei prossimi mesi già nella galleria dietro di noi ci sono lavori per quanto riguarda gli ampliamenti cioè gallerie propedeutiche poi al tunnel principale quindi da subito si riparte. Ormai l'opera è irreversibile. Grazie al presidente Cirio e tutto da Chiomonte. Gli attivisti di Notav avevano annunciato una marcia di protesta fino al cantiere per oggi ma la notifica di alcuni fogli di via da parte dei carabinieri ha bloccato i manifestanti a Susa. Allora fuori dal cantiere Tav di Chiomonte c'è incollegamento in diretta Roberto Rotondo. A te Roberto. Dunque la manifestazione dei Notav è stata in qualche modo bloccata dalla notifica di alcuni fogli di via nella caserma dei carabinieri di Susa. Un avvenimento che in qualche modo è stato preso dal movimento come anche un avvertimento da parte delle forze dell'ordine. In questo momento davanti al cantiere ci sono solamente pochi militanti poiché c'è stato un primo concentramento intorno alle 12.30 o 13 nella piazza di Chiomonte ma le persone che erano arrivate per partecipare a questo presidio sono poi defluite e sono ritornate verso Monte. Quello che succederà nelle prossime ore ancora non è chiaro. Era in programma comunque anche una pericena come è stata definita nei siti Notav e dunque un concentramento dalle parti del cantiere concentramento che è stato annunciato pacifico. La forza dell'ordine sono schierate con attenzione ma non c'è un impianto diciamo particolarmente forte di carabinieri e polizia. Dunque proteste fino a questo momento molto controllate e nessun problema di ordine pubblico. Si vedrà poi nelle prossime ore la risposta che daranno i militanti ai fogli di via che sono stati notificati per le proteste dei mesi scorsi proprio qui in valle. A voi la linea.